Come si troverebbe Carlo Vittori nell'atratica attuale? Beh, sarebbe intanto molto felice dei risultati che abbiamo conseguito nel mondo della velocità, sicuramente. Ecco, il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, anche l'organizzazione dell'allenamento è cambiato, quindi secondo me, però lui aveva delle capacità di adeguarsi molto elevate, per cui si sarebbe adeguato al mondo di oggi. Però non è più come prima, oggi si deve organizzare e programmare l'allenamento in maniera diversa. Vittori ci ha insegnato la programmazione, ci ha insegnato praticamente tutto, io sono un suo seguace, ho avuto la fortuna anche di essere allenato anche da un maestro dello sport che veniva dalla sua scuola e quindi ci ha dato tutti gli elementi dell'allenamento sportivo. Oggi, ripeto, come dicevo prima, bisogna rivedere un po' qualcosa, perché l'atletica di oggi è molto... ci sono tante gare, c'è la Diamond League, dei mondiali, gli europei, gli impegni si susseguono con una velocità estremamente elevata. Una volta c'erano le Olimpiadi, poi c'erano gli europei, ogni quattro anni gli europei, oggi sono ogni due anni. Insomma, ecco, va rivisto quel tipo di organizzazione. Per il resto, chiaramente, l'allenamento ci deve sempre essere alle spalle e lui ci ha insegnato come fare. Dopo lo splendido risultato della 4%, quali sono i prossimi obiettivi sui quali state cercando di lavorare per la prossima estate? Beh, ci aspetta una stagione molto complicata. Abbiamo i mondiali in America e poi gli europei a Monaco. Questi sono due grandi obiettivi della stagione, stagione appunto difficile. Siamo i campioni olimpici in carica e tutti ci aspettano un po' al barco e quindi ci stiamo preparando al meglio per cercare di affrontare e di onorare questo titolo olimpico appunto che abbiamo conseguito a Tokyo. Siamo andati lì per entrare in finale e per giocarci una medaglia. Sono anni che spero in questo risultato. Ci ho sempre creduto perché il lavoro tecnico che abbiamo portato avanti è di alto livello. Abbiamo il più alto indice di abilità del mondo. Per cui al momento opportuno dove c'erano a disposizione anche gli atleti di alto livello come abbiamo avuto quest'anno appunto Marsella che ha vinto le Olimpiadi addirittura. Quindi c'erano tutti i presupposti per fare benissimo. Quindi io ci ho sempre creduto. All'interno sapevamo che si poteva fare. Certo l'oro era magari un po' isperato, insomma, ma alla medaglia ci puntavamo. La staffetta è una specialità molto difficile. Sono quattro sprinter, molto spesso egoisti, molto spesso egocentrici, rivali e poi li devi mettere insieme in un gioco di squadra. E questa è la grande difficoltà. Poi devi utilizzare le risorse umane al meglio perché c'è un primo frazionista, un secondo, un terzo, un quarto. Sono frazioni diverse l'una dall'altra. Quindi ognuno con le proprie peculiarità deve trovare spazio e posto al momento giusto. Quindi grande difficoltà, passaggio del testimone nel più breve tempo possibile e poi molta amalgama tra loro. Nalmaschile, oltre agli ori olimpici, sta considerando qualche inserimento eventuale? Beh, diciamo che la porta è sempre aperta a tutti. Perché è chiaro che quello è un quartetto che ha vinto le Olimpiadi, per cui è difficilmente inamovibile. Però al tempo stesso bisogna sempre essere pronti. Io dico sempre, noi creiamo un gruppo, un gruppo coeso, un gruppo che fa squadra, ma è un gruppo anche aperto. Se arriva il momento in cui bisogna sostituire qualcuno, lo devi fare senza ripensamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.